Con la sentenza letta in diretta tv nazionale Park Geun-hye, la presidente della Corea del Sud da oggi è ufficialmente destituita, perderà l'immunità presidenziale e sarà forse processata per reati penali. La Corte Costituzionale di Seoul conferma l'unanimità all'impeachment votato dal Parlamento lo scorso 9 dicembre. Alla lettura della sentenza esplode la protesta. 20.000 poliziotti si scontrano con i sostenitori della Park. Il bilancio è di due morti e diversi arresti. La prima presidente donna è stata travolta dallo scandalo scoppiato per i rapporti con l'amica e consigliera occulta Choi Son-sil, detta la sciamana capo di un sistema di corruzione che coinvolgeva i grandi gruppi industriali in un giro di tangenti milionarie. La Corte ha certificato che la Choi si è immischiata in affari di Stato per colpa di Park. Finisce quindi la parabola della figlia del dittatore Park Chung-hee, che era riuscita a farsi eleggere democraticamente. Le nuove elezioni presidenziali si terranno il 9 maggio. L'ex capo delle opposizioni Moon Jae-in, sconfitto da Park nel 2012, è dato favorito da tutti i sondaggi. La Corea del Sud ha un bisogno urgente di voltare pagina, vista la minaccia che viene dal nord con i test missilistici dell'altra Corea.